Questa è la stagione dei fiori, dei colori e del primo approccio del sole sulla pelle. E' la stagione per antonomasia della rinascita e degli amori, ma cosa significa veramente iniziare a respirare il cambiamento? Cosa muove in noi quel senso di trasformazione che ci porta ad amare ancora di più il mondo che ci ospita e che ci permette di vivere tra le sue braccia? Esplorazioni emotive e percezioni nella stagione che ci scopre il suo respiro e complemento dei suoi frutti. I colori della primavera tra natura e libertà.